Siamo nel chiostro di San Simpliciano, nel cuore della Milano Benedettina della metà del 1500. Siamo nella settimana della moda e stiamo per assistere ad una sfilata di presentazione per la primavera estate 2022 di Madame Alberta Ferretti, quella femminilità gentile fatta di leggerezza, di colori delicati, di rouge e di linee fluide per cui è famosa nel mondo. Silenzio adesso, sta per iniziare! Prendiamo posto e prepariamoci ad assistere ad un vero e proprio spettacolo di creatività, storia, moda e colore. Iniziamo con qualcosa di intramontabile, ok, come il bianco e nero, certo. Ehi, ma cosa vedo? Una creazione realizzata a maglia! Ecco, ecco, qui un'altra! E un'altra ancora! Bello anche il colore, mi piace, rassicurante senza tempo. Ecco, silenzio ed ammirazione per questo vestito. Che meraviglia questo turchese! La serenità del blu e l'armonia del verde! Beh, sicuramente ha avuto un ruolo da protagonista in questa collezione. C'è da dirlo! Una collezione dal sapore bohemian chic e rigorosa al tempo stesso. D'altronde Alberta Ferretti e la sua concretezza femminile sono famosi per questo. E pensando a quei lavori a maglia, potrei realizzarli anch'io. Magari con il Donni Sinape? Cotone, morbido, perfetto per i prossimi mesi. Ma sì, dai! Certo, se ripenso a quel turchese... Ma sì, dai! Mi ordino anche il Donni Turchese, così da Tessiland, supero i 19€ ed evito anche le spese di spedizione. Aperitivo? Ma sì, andiamo!